Ciao a tutti ragazzi, io sono Klaus e sono qui con Evil Shadow E certo, sei tu che hai detto Sì, ovviamente Allora, oggi giochiamo a Raven's Cry In pratica è un gioco d'azione, avventura Molto simile a Assassin's Creed Sì, molto simile ad Assassin's Creed Anche se comunque sei un pirata e basta, non un assassino Sì, tipo Black Flag in pratica E niente, avremo un po' Tipo Black Flag, il terzo comunque Sì, avremo le stesse meccaniche di Black Flag Che saremo sulla nave Faremo le missioni sulla terraferma Attaccheremo le altre navi Faremo le missioni in mare Troveremo molte donne Esatto E anche molto room Il room non manca mai E neanche le donne E niente In pratica potremmo anche Arrampicarci Come fa Assassin's Creed Purtroppo non abbiamo trovato una pack in italiano Quindi ci dobbiamo accontentare dell'inglese Sì, purtroppo la pack in italiana Non l'ho ancora trovata Tenterò di cercarla Altrimenti possiamo anche continuare in inglese Allora, iniziamo il gioco Tanto non credo sia difficile Facile, non male Cominciamo da easy Sì, facciamo facile Giusto Cioè tu vuoi già distruggerti la vita? No, andiamo... Sì, è molto easy Vediamo Easy, molto easy No, mi pare che i sottotitoli li ho già messi Eh, speriamo Anche se comunque non credo che c'entrino Se non hai la pack in italiano No, vabbè, però Già non si capisce bene in inglese Più se stanno in sottotitoli Che è successo? Frizzato? O se è bloccato? No, speriamo di no Lasciamolo due secondi Ok, tu sei da te ragazzi ma... No, vabbè Purtroppo il mio computer è rimbambito Qui abbiamo Capitan Jack Sparrow Ah, no, no, aspetta Questa è barba nero, vabbè Non la vedi che sono piccola barba? Capitan, avessi Ah, Chris No, Chris che è biglietto Christ Christ a Madonna C'è su un bambino Ahiai, si è fatto male Ahiai, ahiai Noi giustamente siamo il capitano più in gamba e più bello del mondo E più indomito di questa ceppa Esci 10 minuti per uscire No, ma è un caricamento ogni 2 secondi Eh, 10 minuti per uscire Ah, più che altro Quello prima deve vedere il scopo l'altro Più che altro ho messo il salvataggio automatico ogni 2 minuti Così nel caso dovessi interrompere improvviso almeno ho il salvataggio pronto e non perdo i progressi fatti Siamo messi in una botta di ferro ragazzi Siamo messi Più che altro in una botta di room Una botta di room Eh, vabbè, il room stava nel ferro a letto Nella botta di ferro, quindi No, ero di legno Eh, vabbè, dai Devo non essere così fiscato No, invece la finanza Allora, regali ora Allora, comandi Comandi Oh, premi WS Per accelerare Accelerare O decelerare Sì, ma può spare a one minute Eh, lo vediamo dopo È giustamente Ok, vedi, istirassassistico WS Guarda che invece abbiamo giocato dall'Xbox A e D Per Per salzare Quindi Oh, gira, 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 gira Cazzo, andiamo a fine contro le rocce Già, ci vogliamo distruggere Gira Ah, è stata la minima Vaffa, vaffanculo La minima, minima Ho trovato Ci siamo già Forati Due decimi della nave Ma che sta anche a Austin Power No, e avanti, cazzo No, l'arca A best Dai, vabbè, purtroppo Questo passo è un po' bene Oh, guarda, io non ci sto Cambiando X di fronte Q a sinistra E a destra Z a rado Che vuoi vedere? Ah Oh, che figato È come Assassin's Creed Sì, più o meno No, no, è uguale X Ah, X, possiamo vedere Possiamo vedere che siamo andati a sbattere contro Che so, la rocce Ci stiamo andando a sbattere le corna Ah, però, vedi Non è come Assassin's Creed Che almeno Le palle di cannone normali Erano infinite Cioè, qua, un numero 200, 100 Vabbè, tranne quelle incatenate Quelle Quelle infocate No, per favore Le palle, numeri incatenate Per favore No, per favore Potete a massimo rompere Siamo, voi bucanieri Pariti Primi Primi We love, we're down Per cambiare Le frecce No, we love Ah, maggiore frecce No, la rocce Giaco, mi gioco a spararci Ma come ci vina? Stiamo andati a fuoco, ragazzi Stiamo bruciando vini No, no, stiamo sparando Non si faceva a cambiare A cambiare X Z Z Z Che cazzo Già abbiamo imparato qualche cosa Io non direi Ecco, quello che stavo dicendo No Z E basta Gira Avviciniamo Non da qua Oddio Oddio Sì, sì Ma guarda che sono qua Solo volevo dire Oddio Ah, ma mira Ma mira automaticamente È come Assassin's Creed Black Flag No, Black Flag Black Flag Mirava Te lo dico Black Flag Mirava Comunque la nave La nave ci stiamo No, quello era il terzo La nave ci stiamo distruttando No, anche la Black Flag Va bene se lo dici tu Spare, spare Ma dove cazzo spari che sta là davanti Vabbè ragazzi Dobbiamo imparare ancora bene i comandi Magari possiamo bloccare il video E imparare i comandi E poi nel caso di prendere Già sappiamo che faremo una finaccia Non lo sappiamo come Allora, spara Spara, porca Distruggi Ma che è invincibile No, veramente la sai distruggendo Velo piano piano Ma quanto ci metto con queste ricarica di cammini Quanto sono enti Due anni Spare Oh, ok Beh Un barco Ah Spare Dovresti colpirla a un punto vitale Ah, ma mi stai dicendo i vari tipi di munizioni da utilizzare Ma non potevi dici a prima La murtcatina Questo vuole fare le sorprese, capito? Quando ormai la nave sta già distrutta C'è, basta Io continuo a sparare Ma questi sono fatti Come Gesù Cristo, cazzo Vabbè, Gesù Cristo non ha mai ascoltato Un fiume, però Vabbè, però Per dire La potenza divina Il vino Il vino, vabbè Qua abbiamo solo il rum, ricordatelo Vino Dov'apprenderti una sbordina E questa dove viene? E questo Da mudù Ah, da mudù Ma ci stanno facendo appensi, cazzo Ma ci sarà un modo per distruggere l'acqua Comunque La vite di quella nave È poco 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 Non lo sai distruggere l'interniere Hai visto la linea gialla? Ah, vedi la linea gialla? Però questi ho visto che sono i proiettivi di propietà Azzò Ah, lo sai che faccio non me ne dà, non ce l'ho fatto Quelli Ci hanno distrutto la bandiera Quelli su 3 sono i proiettivi più piccoli a grappoli Queste sono le palle incatenate per distruggere l'avero maestro Il secondo Che noi non abbiamo distrutto pari niente No, spariamo un colpo e niente Sì, andiamo giù e arriviamo Uno è per lo scafo Lo scalo Lo scafo Ah, no, avevo capito lo scafo Lo scafo della nave Lo scafo della nave Poi abbiamo due salve di cannoni Che caricano lentissima Ma perché quando sparano, quando colpescono Dicono salve Siamo i cannoni Siamo i cannoni Siamo i cannoni Ci facciamo il culo Poi mettiamo la grappola Lo so C'è un grappolo in vivo Siamo i cannoni Scusate Scusate Arrivò un messaggio a raro Oh, però, vero, è il proprio Siamo i cannoni Anche se noi praticamente Andiamo in una maniera tremenda Andiamo già praticamente portato da Kraven Da Kraven Da Kraven Inoltre abbiamo anche Chi pensava al Kraven Siamo morti Addio Ciao Addio Ciao Addio E quindi ci ritroverò in un prossimo video di Raven's Cry Sicuramente sarà migliore di questa volta Sicuramente Quindi lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Un commento Lo ripeto Scusate Sono un papagallo E iscrivetevi al canale E anche sulla pagina Facebook Ciao a tutti È tutto da Niklaus È tutto da Niklaus E da Evil Shadow Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti